ciao a tutti guerrieri guerrieri ciao a tutti guerrieri guerrieri sailor la fu e la fretta io sono ferdinand e sono un gran fan di serone oggi non si parla di serone in questo video di sabato 9 febbraio 2019 voi lo vedrete probabilmente il 13 14 di febbraio più in là tanto sono i compleanni mia sorella quella che l'avete vista nei blog chi mi segue da due anni e mia madre quindi i familiari i compleanni di famiglia poi il 24 di quell'altra mia sorella che ha avuto il mio nipote e poi il mio fratello maggiore sempre del lato del mio defunto padre biologico comunque è tutto in famiglia oggi tecnicamente è un compleanno di mio cugino materno quindi vedete un po siamo tutti cioè tutto impegnato allora torniamo alle cose di youtube no alle mie alle mie alla vita dei miei familiari allora cosa è successo io sono proprio in questa postazione perché questa qui c'entra nel discorso vi faccio un aggiornamento quello che è successo stamattina ho fatto su instagram delle storie su instagram lo trovate nell'infobox nella sezione social network oppure una volta quando compare a fine video che cosa è successo mercoledì c'erano un paio di mesi fino a mercoledì mercoledì questa settimana che era il 6 di febbraio ci sono stati dei come posso dirvi dei 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 problemi a livello di burocrazia universitaria il primo punto da questi mesi fino a 6 non riuscivo a cliccare su due esami quello in cui avete visto nei vlog scorso e nei vlog scorsi è un altro che letteratura italiana che cosa è successo sono andati in segreti segreteria didattica insieme a un'altra a una mia amica poi eravamo andate anche nella segreteria delle lingue poi che un'altra parte poi vi faccio vedere poi ci arriviamo è successo che mi dava quell'esame la prenotazione online mi dava il codice diverso dal mio che cosa è successo nel mio piano di studi del 2009 2010 io ho un codice ok questo codice della prenotazione sono per gli iscritti di quest'anno cioè che si sono iscritti dal 2018 2019 i nuovi matricolati diciamo così alla fine non ho capito bene come funziona ogni anno queste materie cambiano codice erano stati disattivati i miei due codici e non potevo fare l'esame cioè non c'erano prenotazioni i professori sono andati in pensione storia medievale lo devo fare con quel professore che io avevo già concordato i quattro libri tre dividete dietro di me che alla fine si sono risultati poi ci arriviamo letteratura italiana con un'altra professoressa che li ho contattati ieri sui e tramite email e poi mi hanno risposto poi vi dico la segreteria delle lingue sono andata anche nella segreteria delle lingue e mi hanno consigliato di fare questo esame di lingua inglese purtroppo devo fare questa comprensione orale perché rientra nell'epoca nel 2009 c'era questa cosa se io scelgo portoghese e tedesco devo fare solo una comprensione scritta purtroppo io le queste lingue per me sono sconosciute la mia amica ha detto di prendere una di queste due di mettere risposte a caso se l'ultima speranza se l'inglese 4 5 6 volte non ce la facessi a superare francese inglese spagnolo mi sembra o solo francese inglese hanno la prova comprensione orale vabbè io il francese non lo conosco e mi hanno consigliato di farlo al più presto di non lasciarlo all'ultimo dal 28 febbraio invece di venire qui da mezzogiorno e mezzo va direttamente a dalle 2 alle 16 a un corso gratuito perché questi corsi che accanto alla serie principale della mia facoltà invece l'esame di lingua viene svolta un'altra parte a firenze nord e quindi io faccio direttamente come si dice farei questo corso dalle 6 4 alle 16 l'inglese per aiutare cioè che aiutano a per queste prove che in realtà nel mio piano in studio io ho solo questo prova di lingua e questa l'abbiamo risolta storia greca era l'unico esame che mi dava nell'appello e io potevo semplicemente cliccare però giustamente il professore che ha preso il posto della professoressa l'ipatica diceva solo il mattina il mercoledì e quindi devo trovare mercoledì in cui andare a parlare ora devo decidere sul calendario esami se fare storia medievale prima e storia greca oppure storia medievale inglese storia greca letteratura italiana che sono i miei quattro e ultimi esami del piano del studio ieri ho parlato mi hanno confermato allora quindi mando l'email dal professore storia medievale spiegando tutta la situazione dalla z e mi dice che quella lista di libri che io ho cioè dove erano questi tre un altro che c'è prendevo impresti in biblioteca non è valido perché quella lista di libri su lui e la usava fino al 2015 quindi che cosa è successo è successo che io ho studiato tre libri lì dietro aspettate la mia testa tre libri lì dietro più un altro che prendevo impresti in biblioteca dell'università e ho due quaderni di appunti in maniera inutile quindi ora devo fare tutto da capo e già mi ha fatto vedere anche la rabbia perché io giustamente prima lui mi dice di fare questo esame e ora sapendo mi ha detto che quella lista non è più bene cioè non gli va più bene io mi auguro che questi tre quattro libri potessero spuntare in questa nuova lista chissà mai dire mai letteratura italiana la professoressa mi dice che lei non fa quelli che frequentano il corso quest'anno non fa la come si dice la lezione farà tre volte lezione e mi ha indirizzata a un'altra sua collega un'altra professoressa che farà di più lezione a quelli di storia del 2018 2019 nel secondo semestre e di specificare il programma del mio vecchio professore e di il testo perché praticamente questo è uno dei testi di letteratura italiana più che qui c'è delle dispense online del mio vecchio programma diciamo così di letteratura italiana qui c'è storia greca il vecchio libro della professoressa questi erano i libri di storia medievale queste erano di un altro professore ho trovato altri quaderni poi ve li farò vedere alla fine io ho mandato l'email a questa dizia non risponde cioè bella cosa quindi io non so storia medievale non so che non so non non so ancora cosa studiare né storia medievale né letteratura italiana né storia greca quindi so solo che è inglese faccio questo corso perché l'esame di inglese di lingua è una prova a tempo quindi a 60 minuti da computer non posso usare l'edizionario né niente c'è ci sono delle cuffie simili alle mie quelle che me mi regalo mio fratello della sony quelle grosse in cui si deve ascoltare questo brano audio di presentare il libretto universitario ora le documenti d'identità devi firmare all'inizio io l'ho provata quattro volte 2012 2013 2014 2017 mi sembra niente ritornare a un corso universitario poi in questo caso inglese anche se non c'è la prova l'obbligo di frequenza io potrei anche andare perché già due volte li ho lasciati a metà e poi non ho continuato ora visto che è l'unica l'unico corso diciamo che posso fare da non frequentante dopo anni fa un effetto strano un altro problema è che io avevo fatto un tirocinio universitario è un tirocinio universitario e mi era stato detto che lo potevo fare al posto di una materia che si chiama abilità informatiche che si trova nel mio piano di studi la segreteria didattica afferma che questa abilità informatiche il tirocinio non è non è possibile non è possibile perché in quel mio piano di studio io devo fare questo esame di abilità informatiche come professore dal me peggio di quella di storia greca ecco perché ho feci il tirocinio mi mi dissero che io potevo potevo sostituire abilità informatiche con il tirocinio che ho fatto una biblioteca sui partigiani fiorentini ora non so sempre metà strada tra la mia facoltà il centro di firenze e la tizia della segretaria didattica mi ha dato un indirizzo email in cui l'ho mandato questi mail affermando che il piano di studio a fine febbraio lo dovevano modificare per il resto ancora non ho avuto questa risposta e accadrebbe che il mio piano di tirocinio è come se io non fossi è stato fatto inutilmente nel lontano 2011 2012 come potete vedere il tappo sera rotto e ho sistemato ho comprato un altro di queste qui molto utile da facebook a telegram tutti i miei social network li trovate nell'infobox se non falsa fila d'amazon il mio secondo canale è random youtuber boys e noi ci vediamo prossimamente i youtubers del team li trovate tutti qui nell'infobox ciao ragazzi ciao ciao ciao